Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale YouTube. Oggi abbiamo una storia intrigante e toccante da raccontarvi. Riguardante Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nel corso dell'intervista a Verissimo, Elisabetta ha svelato alcuni dettagli sorprendenti sul loro rapporto. In particolare sul modo in cui trascorrono le serate insieme. Rimarrete sorpresi. Nell'intervista con Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci ha parlato apertamente del suo attuale rapporto con l'ex marito Flavio Briatore. La sorprendente rivelazione è che i due cenano insieme tutte le sere. E non solo. Ma lo fanno anche in compagnia del loro figlio Nathan. Elisabetta descrive il loro rapporto come «inusuale». Spiegando che non hanno mai avuto litigi o dispetti. concentrandosi sempre sulla serenità del loro bambino. La tranquillità di Nathan è una priorità per entrambi i genitori. E vivono a soli 500 metri di distanza a Monte Carlo. Anche durante le vacanze estive, cercano di trascorrere del tempo insieme come una famiglia unita. Tuttavia, entrambi hanno vite sentimentali private e separate. Nathan, il figlio di Elisabetta e Flavio, ha condiviso il suo affetto per entrambi i genitori. Sottolineando l'importanza di mantenere un rapporto positivo con entrambi. Inoltre, Elisabetta ha accennato alla possibilità di mandare Nathan in un college svizzero per studiare. Una decisione che sta valutando insieme a Flavio. Anche se ha ammesso che sarà difficile separarsi da lui per lunghi periodi. Elisabetta ha anche scherzato sul fatto che spesso è lei la più severa tra i due genitori. Con Flavio che tende a dire sempre, sì. Ma alla fine, sembra che siano entrambi determinati a fare del loro meglio per il bene di Nathan. Prima di concludere, se vi interessa seguire le ultime notizie sul mondo delle celebrità e le storie intriganti come questa, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Cliccate sul pulsante di iscrizione e attivate le notifiche in modo da non perdere nessun aggiornamento. Continueremo a esplorare le dinamiche complesse delle vite delle star e delle loro relazioni. Iscrivetevi ora e ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi ora e ci vediamo nel prossimo video.